quindi buona serata a voi quindi questa sera abbiamo con noi francesco carbone e l'avvocato virginia cerullo quindi grazie francesco di essere qui con noi grazie a te antonio per la disponibilità virginia arriverà dopo che al momento c'è il bambino che fa i capricci ebbè virginia oltre ad essere un avvocato è anche una mamma e quindi le mamme devono stare con i bambini va bene dopo poi quando ci raggiunge magari facciamo qualche domanda anche a lei allora francesco innanzitutto io so che molti ti conoscono io ho conosciuto francesco perché non è che l'ho conosciuto di persona però siccome come radio mi mandano video di tutti di tutti i generi mi arrivavano questi video di questo siciliano un accento quasi austriaco scherzo siccome sono siciliano anch'io e mi incuriosiva la cosa e e ho seguito un po la vicenda del famoso raccordo anulare e tutto quanto devo dire francesco che mi ha fatto un po rabbia quel quelle giornate in cui praticamente una pacifica manifestazione è stata bloccata in quel modo ma non mi ha meravigliato più di tanto ma la cosa che più mi faceva rabbia nel vedere quelle cose è che le persone la io ho fatto parecchie manifestazioni però alla fine mi sono mi sono stufato e stancato perché le non vedevo la massa di gente venire lì a darci una mano se quello mi fa molto molta rabbia perché sono tutti bravi no dietro la tastiera del computer a dire dobbiamo fare questo facciamo bravo bravo francesco però poi chi prende le botte chi viene arrestato e chi chi insomma viene maltrattato e sono sempre le solite persone ecco francesco ha cercato adesso lo dirà lui insomma no e sta ancora cercando di fare giustizia ma non perché lui sia un giustiziere perché lui è un cittadino come noi che però ha deciso di utilizzare la via legale e che cosa è successo francesco intanto francesco è anche presidente dell'associazione governo del popolo aps raccontaci un po ecco francesco tutta la tua che cos'è questa associazione e tutta la tua vicissitudine perfetto per chi ancora non si conosce l'associazione governo del popolo aps è un'associazione di promozione sociale è una mia creatura l'ho ideata io dopo anni di guerra in solitaria contro il sistema criminale all'interno dell'istituzione io dal 2007 che lotto contro questo sistema criminale dove per aver fatto semplicemente il mio lavoro di responsabile di cantiere di apparto a verona per quanto riguarda gli apparti dei posti italiani visto e considerato che negli apparti non sempre tutto deve andare a norma perché se tutto va a norma nessuno ci guadagna non ci sono tangenti non ci sono entrallazze né niente quindi quando non andava niente a norma sono stato il primo a denunciare per mettermi a salvaguardia dei miei dipendenti che loro poi a loro volta per paura perché la cosa principale che c'era allora c'è ora e spero che non ci sia in futuro e la paura di ricevere ritorzione la paura di perdere i posti di lavoro da schiavezzate e la paura di perdere tutto e poi alla fine uno perde tutto e perde pure tempo all'epoca quando ho denunciato mi sono ritrovato tra virgolette lo stato contro a quel punto volevo capire era solo dei singoli personaggi all'interno dell'istituzione o se era la cosa ancora più grande e a mano a mano che proseguivano le denunce la cosa si increndiva sempre di più e ho capito dopo tanti anni che era un intero sistema che non solo gestiva controllava gli apparti dei posti italiani ma controllano tutti gli apparti tutto ciò che è in italia per quanto riguarda apparti per quanto riguarda giustizia politica e quant'altro scusa francesco fammi capire la finché tu lavoravi non a norma nessuno ti rompeva le scatole giusto potevi potevi continuare a lavorare tranquillamente però non era quasi nulla norma appena tu hai deciso di denunciare che che le cose che adesso non so che tipo di lavoro facevi però non è io lo capisco perché ho fatto per anni sindacalista e so che vuol dire lottare contro certe paure quando poi deciso di denunciare il mal costume oppure quello che non andava perché era contro la legge invece di dirti brava la legge ti è venuta contro è così detta diciamo parliamo di a parte giocate evasione fiscale fiscale lavoratore nero servizi che non dovevamo fare ce le facevano fare di proposito è una marea di reati tangente istruzione tutto registrato tutto documentato fa conto che io ho collaborato fino anche sei mesi con carabinieri e guardia di finanza di verona con e logo aspetta come si chiamava cardella logo tenente cardella brigadiere di felice i quali dopo sei mesi di collaborazione non fanno assolutamente nulla anzi erano loro mandate da coloro che gestivano da parte e i dirigenti dei posti italiane per sapere solo le prove che avevo un mano io contro di loro dove anche di mezzo c'era il sindacato della gigelle e tutto un complotto tutta un'organizzazione per sfruttare al massimo lavoratore e sfruttare gli apparti di stato solo per benefici personale non per fare un bene per l'azienda posta italiana o per lo stato quindi all'epoca io ho dovuto denunciare subito minacce e offerte di tutto collaborato con guardia di finanza con i carabinieri di rovigo alla fine ho dovuto dare le dimissioni dal posto di lavoro e denunciare tutto all'autorità competente e poi dopo due anni mi ritrovo con le indagini sabotate da due procuratori capo attraverso l'uso diabolico del modello 45 in quel momento mi scattata la scendilla volevo capire che cos'era questo modello 45 e ho capito che era una mica nociuffa e un modus operandi che utilizzano i magistrati per andare a sabotare le denunce e contro personaggi legate ad ambienti politici mafiose elogie sette ordine quant'altro hai capito e quindi tu hai scoperto hai scoperchiato il vaso di pandora come si dice e poi conto che la prima manifestazione contro la mala giustizia l'ho organizzata nel 2010 era il 27 settembre 2010 dove una maria di cittadini di tutta italia eravamo presenti davanti al parlamento all'epoca sono stato sentito fin anche dal segretario all'epoca c'era il presidente della camera fine ma fa conto che il giorno dopo che dovevamo essere sentiti in commissione giustizia hanno fatto sparire dentro il parlamento anche la lettera che all'epoca fine aveva mandato in commissione per essere noi ascoltati perché questa il modello 45 in pratica essendo utilizzato in tutte le procure in pratica già allora saltavano tutte le procure d'italia e quindi assolutamente non doveva emergere come nessun giornalista a livello nazionale ha voluto mai far emergere l'abuso dal modello 45 da parte dei magistrati perché l'ultracasta dei magistrati non si deve toccare anche perché tutti i media nazionali sono tutti asserviti a vari poteri sia che siano di destra di sinistra di centro non esiste destra sinistra centro movimento cinque stelle non esiste nulla sono solo burattina servizio di un sistema di sistema criminale molto più in alto che sono due le cose o se fanno la guerra tra di loro solo per arrivare ad accordi specifiche o trovano come sempre gli accordi per detenere il potere a discapito dei cittadini della nazione quant'altro però detto così allora noi cittadini siamo inermi di fronte a questa a questo diamine il problema che vogliamo essere in armi perché ogni cittadino magari che ha subito ma la giustizia pensa di avere più danni degli altri o più esperienza degli altri ognuno si tratta di essere individualiste perché anche tra vittime fanno a rilogare a chi è più vittima invece di unirsi tutti insieme e affidarsi a chi ha dimostrato in questi 13 anni di non subire niente da parte di questi sistemi criminale se non metterle perennemente con le spalle al muro prima li mettevo con le spalle al muro da solo fino al 2018 da quando abbiamo creato l'associazione corno del popolo dove appartenente delle forze dell'ordine che hanno subito pressione e minacce e ritorzione da parte di questi sistemi criminale avvocati e altri cittadini che hanno subito le stesse cose abbiamo unito le forze quindi a livello giuridico a livello di ex appartenente alle forze dell'ordine e quant'altro e abbiamo tutto quello che ci serve per poter abbattere questo sistema ma diciamo che in italia come sono chiamati inglesi class action cioè quelle gruppi di persone che si uniscono con vari avvocati e fanno una denuncia unica non ha mai funzionato in italia pensi che ci sia la possibilità se ci sia se c'è un'associazione molto potente di tante persone si possa fare qualcosa allora le class action spesso e volentieri sono solo per richieste del risarcimento danni noi abbiamo fatto una class action per quanto riguarda giletti e la sette e le mafiose sorelle napoli di mezzo uso riuscendo a portare fino anche 150 cittadini a denunciare giletti la sette e tutto quel sistema criminale e gira attorno a tre mafiose di mezzo uso fatte passare per vittime di mafia da quel sistema mafioso che gestisce i fondi aspetta un attimo aspetta un attimo no no che qui bisogna fare un po di chiarimento no adesso mi hai fatto ricordare che io non è che guardo tanto giletti è però ogni tanto mi capita e credo di ricordarmi che lui ha preso a cuore queste tre signore che dice che avevano subito adesso fammi ricordare avevano subito danni dalla mafia e da sole hanno combattuto contro la mafia contro quindi non era pure quella era tutta una messa in scena tutta una messa in scena perché giletti voleva portarsi come candidarsi come sindaco del roma a fare parlamentare il redditore con google era colui che doveva sostituire renzio berlusconi e portarsi in politica dove lui a differenza degli altri politici con se con la trasmissione la sette riusciva a sconviggere la mafia e figuriamoci cosa poteva fare attraverso la politica attraverso essendo premier capito era tutta una messa in scena mediatica per fare campagna politica sia per lui sia per giletti e per tutti i signori che erano attorno a giletti nella trasmissione tra cui di peggio e tutti gli altri ma questa cosa gliel'ho fatta fuggire di mano perché erano fatti i conti senza l'oste non se ne è più parlato e non se ne è più parlato perché i procedimenti ora vanno avanti e siccome sanno a priori che è tutta una farsa e abbiamo dimostrato che è tutta una farsa tra cui neanche i 90 ettari di terreno che loro dichiarano di essere proprietari loro ne sono proprietari anzi abbiamo avuto la dimostrazione attraverso le misure in conservatoria che tutti quei terreni a maggior parte dei terreni derivano da eredità del nonno ma che doveva essere divisa su dieci fratelli dove non hanno mai fatto la successione per la loro parte ovvero un decimo dove un terzo di quei terreni sono frutto di mafia dei pascoli ovvero terreni acquistati al 10% del loro valore effettivo attraverso minacce e quant'altro un altro terzo di terreni fanno parte della riforma agraria cioè terreni che dovevano andare ai piccole contadine con la riforma agraria e loro fatta l'età nell'anno 79 non si capisce come riescono ad acquisire tutti questi lotti di piccoli terreni è come se tu domani riesci ad acquistare interi condomini di case popolari anche perché il padre denominato diavolo bianco è scritto al registro dei mafiosi al numero 859 in questura a palermo sapevano tutti che era il mafioso e il capomandamento del paese ma tu dove vivi adesso adesso mi viene una domanda non vivi in sicilia no da due anni no no perché a volte uno pensa certo che deve essere coraggioso francesco perché occuparsi di queste cose contro un sistema così capillare perché se un'intera televisione si mette a fare queste messe in scene se un intero sistema protegge quello che diciamo la camorra la mafia è una persona come te o è coraggioso ma tu vai conto una cosa Antonio quando ho iniziato a denunciare il sistema Mezzoiuso e le mafiose sorelle Napoli protette da Marasciallo Saviano di Mezzoiuso e d'altro carabinieri carabinieri di Villafrate, carabinieri di Mezzolmeri io abitavo a Villafrate a due chilometri da Mezzoiuso io andavo a Mezzoiuso gli sfidavo faccia a faccia nel senso che andavo a reperire le prove mentre c'erano le inviate della sette che cercavano di reperire prove false per falsificare la verità io andavo a reperire le prove su quello che loro volevano falsificare e per bene cinque volte gli è saltata fino anche la programmazione televisiva dove non mandavano neanche il servizio perché io nel frattempo pubblicavo le prove del contrario di quello che loro volevano dire noi abbiamo fatto tutte le denunce cioè tu fai conto che Claudio Fava presidente della commissione parlamentare in Sicilia gli abbiamo scritto tre volte per essere convocati in commissione proprio per depositare tutte le prove in nostro possesso contro le mafiose sorelle Napoli hanno sentito tutti anche persone che non c'entrano niente con le sorelle Napoli Claudio Fava non ci ha mai convocato mai con tutto ciò che l'ultima lettera che abbiamo spedito era una vera e propria denuncia dove abbiamo descritto tutti i reati commessi dalle sorelle Napoli tutti i reati commessi dai magistrati di Termini Merese, di Palermo, di Cartanissetta non ci ha mai mai convocato fai conto che siamo andati fino anche alla direzione nazionale antemafia ad andare a depositare tutte le prove in nostro possesso al procuratore Roberto Pennise e sia il fascicolo per quanto riguarda le sorelle Napoli e il sistema dei progetti legalità che lo ti spiego meglio sia le denunce contro la KSM del Rosario Basile sia le denunce contro gli apparti dei posti italiani sia le denunce contro un sistema criminale che ha protetto un pedofilo protetto da magistrate e parlamentare il Roberto Pennise della direzione nazionale antemafia raccoglie tutta la documentazione in un fascicolo la manda a Catania e noi ritroviamo tutta questa documentazione a Catania in un fascicolo sabotato di un'altra denuncia ma poi dietro a tutto questo diciamo che tu hai anche Virginia che è tua moglie adesso io non so mai tua moglie è compagna compagna moglie o compagna sarà la stessa cosa però c'è una piccola differenza giusto? comunque è anche avvocato quindi non è che dice Francesco Carbone smette lì fa le denunce magari sbaglia pure a farle no dietro di lui c'è anche un avvocato che quindi sa come si fa ma non c'è solo Virginia Cerullo come avvocato all'interno della società del governo del popolo sono tanti altri avvocati che non devono e non possono apparire come ci sono tanti come ho detto prima delle forze dell'ordine in pensione che magari facevano parte di settore particolare che non appaiono ma infatti la seconda domanda che ti volevo fare era questa proprio questa cioè ma non posso pensare che voi siete soli cioè ci sarà qualcun altro che vi sta dando una mano anche a livello istituzionale magari non si sta tu metà un po' di cosa l'hai detto ma è possibile che nello Stato sono tutti concursi e non c'è qualcuno che dice cavolo questo c'ha ragione diamogli una mano magari non esplicitamente allora Antonio noi abbiamo denunciato anche alla Casa Bianca il golpe politico giudiziario siglato nell'89 iniziato prima siglato nell'89 tramite il codice Vassalle e il decreto ministeriale del modello 45 dove hanno siglato in pratica il patto tra varie mafie massonerie e quant'altro dove i procuratori capo da quel momento in poi avevano e hanno il dominio su tutte le procedure penali di tutto il territorio quindi loro hanno il potere di poter sabotare qualsiasi denuncia qualsiasi procedimento penale dove nessun organo di controllo tra cui Presidente della Repubblica Ministro Buonafede CSM o quant'altro va a controllare perché sono tutti di cui tutte collusi tra di loro quando siamo andati noi per la prima volta quest'anno davanti al Quirenale il 15 di giugno tu fai conto che sono arrivato là con la mia famosa valigia blu contenente i quattro sistemi criminale e altro già depositati nelle varie procure direzioni nazionali mafia anche Presidente della Repubblica ovunque solo ed esclusivamente per chiedere spiegazione del motivo per il quale il Quirenale e la direzione nazionali della mafia non si sono mai attivati fino ad ora tu fai conto che solo per aver chiesto questo sono stato sequestrato se può dire per tre giorni di fronte al Quirenale davanti il palazzo della Corte Costituzionale nel marciapiede sotto il sole coagente con 25 se non di più agente della Dico si attornano trattato come un criminale come un terrorista semplicemente per aver chiesto un incontro con il portavoce del Quirenale e con la direzione nazionale di mafia solo per pretendere l'applicazione della legge per pretendere la valutazione delle nostre prove presentate nelle nostre denunce e l'avvio dell'azione penale contro i criminali che abbiamo denunciato e si sono resi il 15 di giugno si sono resi complici di tutte quei reati perché l'articolo 40 parla chiaro e quindi si diventa complici nel momento in cui non si fa assolutamente nulla se hai potere di poter eliminare quella situazione fino anche il Presidente della Repubblica si è reso complici di quei reati ma stiamo parlando Sergio Mattarella che tanti non sanno che è stato nel 92 se non mi sbaglio finanziata la sua campagna elettorale dal imprenditore Salamone di Agrigento erede di come si chiamava di Angelusino ovvero il Ministro dei Lavori Pubblici della mafia condannato questo Salamone per mafia che finanziava la campagna elettorale di Sergio Mattarella che non è stato all'epoca condannato per la tenuità dei soldi che ha ricevuto ma guarda sinceramente non mi meraviglia più nulla perché dopo quello che si è visto e sicuramente avrai seguito anche tu perché tu penso sei anche appassionato di queste cose dopo quello che abbiamo visto che stanno facendo a Trump adesso può essere simpatico non può essere simpatio può essere contro il deep state comunque abbiamo notato che un Presidente della Repubblica cioè un Presidente degli Stati Uniti che non è Pinco Pallino è stato censurato da Twitter quello quell'altro quindi c'è un movimento diciamo che può veramente fare tanto cioè non era mai successa una cosa del genere ripeto al di là del fatto se adesso Trump piace non so se tu sei un Trumpista o un antitrampista non è importante stasera questo è comune quando faremo che noi non abbiamo soldi ma prove e lui ha potere e prove è quello che mi fa pensare Francesco cioè un uomo come quello che ha una marea di soldi perché se avevo un po' di potere anche una mostrina addosso tranquillo che li portavo in galera con i Pullman le mie spese e poi ci discutevamo con i magistrati ecco a proposito di magistrati e avvocati allora ultimamente e poi naturalmente non parleremo di varie cose questa sera con te perché penso che tu sei ti stai occupando non solo di quello ma anche di altre cose io diciamo da marzo adesso sono usciti fuori come i funghi avvocati personaggi insomma di un certo rilievo che sembra che all'improvviso sono diventati dei come si dice dei grandi umanisti che fanno tutto gratis e tutto qua per poi scoprire io stesso che qualcuno di questi invece non non facciamo nomi stasera però mi raccomando poi se li vuoi fare tu io non li voglio fare però qualcuno di questi invece alla fine si è dimostrato non sincero ecco questo non fa bene alla causa qualsiasi causa adesso la causa della mafia la causa di quello che stanno lo schifo che stanno facendo con la scusa del virus ecco tu come anzi senti facciamo una cosa visto che cambiamo leggermente argomento ma poi tu puoi tornare quando vuoi nei tuoi argomenti non è che ti voglio togliere la parola però mi interessava questa faccenda di questa nuova aria che gira di brave persone che vogliono salvarci dal covid o dalle leggi contro il covid non so tu hai già capito di cosa sto parlando allora vedete Radio 1111 almeno io ho sempre cercato di essere a 360 gradi e l'abbiamo ripetuto centinaia di volte quando noi intervistiamo che ne so un avvocato o un medico oppure qualcuno che dice qualcosa non è che la radio è quella cosa dà la possibilità a quella persona di dire la sua questo lo dico non perché abbia paura di qualcosa perché voi lo sapete ormai da dieci anni che abbiamo toccato tutti gli argomenti possibili immaginabili e non ci siamo mai spaventati di nulla però non vogliamo essere scambiati per quello che non siamo quindi non è che non ci piace l'etichetta l'etichettatura ecco l'etichettatura non ci piace quindi io questa sera ho con me francesco carbone mi piace come persona e voglio che lui dica quello che lui vuole dire ma questo non vuol dire che radio 1111 è francesco carbone ci siamo spiegati insomma io spero di essermi spiegati non so se francesco ha capito qualcosa ma è così ognuno è libero di dire quello che vuole si prende le proprie responsabilità perché quello che so io sicuramente non sai tu e uno quando non sa una cosa purtroppo è ignaro di certe cose magari prende per oro colato quello che dice magari un giudice un medico un avvocato o chi che sia magari con titoli poi purtroppo arrivano le smentite e uno magari ci rimane pure male allora torniamo a noi la mafia abbiamo capito che esiste purtroppo ancora esisterà per un po' di tempo perché ha ormai le mani ficcate dappertutto hanno coltivato uomini politici che secondo me sono 50-60 anni che stanno al governo comunque a parte questo torniamo poi ai tempi di oggi oggi ci sta come avevo accennato prima un nuovo tipo di lotta che diciamo cavalca un po' l'onda della paura l'onda del vaccino l'onda della mascherina e cosa questa questa onda da chi viene cavalcata da avvocati magistrati dottori ecco francese che fatalità per questi avvocati dottori avvocati giudici commercialisti ingegneri e quant'altro nessuno pretende la punizione penale di quei criminali che essendo al potere al governo sia in qualità di ministri presidente del consiglio magistrato e quant'altro commettono abusi contro i cittadini contro la collettività contro la nazione ma semplicemente pretendono solo pretendono neanche fanno finta di chiedere urlando ai 420 che le vogliono a casa organizzano manifestazioni parrocche che poi si trasformano in campagne politico elettorali e chi non vuole pulizia all'interno dell'istituzione per poi presentarsi anche loro per fare parte di quell'istituzione non è altro che un miscuglio di gente criminale che si mescola con altri che fanno finta di voler combattere quei sistemi criminali che poi alla fine non combattono ma semplicemente vanno a fare accordi come è successo prima con i 5 stelle ecco stavo dicendo mi sembra un film che purtroppo abbiamo già visto e io purtroppo i 5 stelle quando nascono nascono nel momento in cui Monte e con i governi tecnici dovevano applicare tutte quelle norme restrittive alla popolazione e quindi i classici personaggi Berlusconi Renzi quant'altro non potevano farlo se no perdevano la credibilità a livello popolare e hanno fatto fare ai tecnici così che quegli attori del sistema potessero subentrare magari dopo ma all'epoca che hanno fatto visto e considerato che i cittadini erano delusi dalla politica e quindi nessuno magari andava più a votare e non andando a votare il sistema non era più legittimato a governare l'Italia per nome e per conto del popolo italiano si sono inventati i 5 stelle così da invogliare i cittadini ad andare a votare questi semplici cittadini che avevano voglia di onestà di legalità di giustizia perché se non era per loro e noi ci abbiamo abboccato con tutte le scarpe perché io sono stato uno dei primi grillini in telpino i 5 stelle erano tutti personaggi che derivavano dalle segreterie politiche del PD come tante a Palermo facevano parte delle segreterie politiche di Beppe Lumia e Sonia a Fano dove in Sicilia pure le pietre sanno che non si muove foglia se Beppe Lumia non voglia dove Beppe Lumia lo dico l'ho detto e lo dirò sempre è il primo mafioso in Sicilia colui che ha comandato attraverso la presidenza dell'antemafia siciliana tutta l'imprenditoria siciliana dove lui decideva lui e il suo sistema e il sistema che è sopra di lui tutti coloro che dovevano vivere o morire in Sicilia che bastava dare patentino di antemafioso per poter fare attività o andare a sequestrare aziende magari non mafiose attraverso l'asaguto attraverso altri professionisti dell'antemafia per far lavorare sempre solo coloro che volevano loro però sai una cosa Francesco ci sanno lavorare bene perché vedi io nonostante mi avvertivano più di una persona dice guarda che grill è così guarda cioè in quel momento io non vedevo cioè perché io sono stato uno di quelli che ci ha creduto come me tantissimi non mi vergogno a dirlo non è che sono l'unico basate solo sulle parole e mai sui fatti però uno ho notato i fatti li possiamo fare quando siamo a governo e no perché ogni parlamentare svolge la sua funzione nome per conto del popolo quindi se un parlamentare quando dicono ah tizio è criminale tizio ruba di qua tizio ruba di là non si deve dire immediaticamente come fanno le iene il report si c'è la notizia perché fanno semplicemente gossip perché quando quelle notizie del reato invece di dirle pubblicamente si comunicano alla procura e poi si pretende che la procura faccia il proprio compito e allora quello si può dire che un'informazione ne denuncia ma quando si dicono le cose e poi non si attiva nessuno e nessuno dice che le procure non si attivano per andare a salvaguardare quei criminali all'interno dello Stato alla fine è tutto un circolo vizioso dove si parla di tutto nessuno interviene e gli unici essere fregati è il popolo e i cittadini onesti però vedi Francesco e adesso tornando indietro mi hai fatto pensare una cosa sto collegando quando io ero così convinto che il Movimento 5 Stelle potesse veramente salvare le sorti dell'Italia ma a me mi potevano dire in quel momento qualsiasi cosa Francesco io anzi ero molto accanito contro quelli che erano perché adesso adesso capisco anche perché certe persone in questo momento se tu gli dici guarda la mascherina non serve a niente oppure guarda che il covid è un'invenzione ti si accaniscono contro e allora adesso mi hai fatto pensare che pure io sono stato vittima di questa di questa cosa perché poi adesso adesso col senno del poi mi sono accorto che ci hanno preso per il culo ma proprio forse questo è il governo più dittatoriale da dopo la seconda guerra mondiale che ha avuto la nostra Italia e dico ma tutta sta gente io la adoravo Di Maio che ne so oppure Di Battista adesso non dico che li odio perché non odio nessuno però dico ma guarda si fa rabbutti come ce l'hanno messo nel sacco proprio in maniera splendida e adesso non mi fido più di nessuno perché adesso questi nuovi che arrivano che vogliono che si discostano dal momento 5 stelle che vogliono che dicono ah non faremo mai un partito e creano dei movimenti dei gruppi mi sta venendo in mente che ancora una volta vogliono deviare le masse verso un qualcosa che poi ti faccio un esempio un altro esempio a me mi hanno fregato più di una volta dice allora sei recitivo io ho fatto parte anche del Coem è un gruppo che sembrava chissà che dovesse fare e poi invece è diventato pure quello un partito il partito dei valori umani quindi alla fine è sempre lo stesso gioco possibile che ci caschiamo sempre Francesco e loro sanno che purtroppo il cittadino medio avendo possibilità di poter mettere alla prova il tizio che è sembronio e purtroppo si deve basare a quello che sente io ho da 13 anni che metto alla prova parlamentare e quant'altro e tutti questi personaggi che sono usciti ora nuovi sono personaggi che io conosco da 10 anni voglio fare un nome voglio fare un nome perché siccome ci sono amico e un po' ci credo però a questo punto comincio a non credere più a nessuno per esempio c'è una certa Sara Cunial come la vedi tu? Sara Cunial è già il fatto che era parlamentare e già ci deve far capire una cosa a me mi hanno fatto una marea di offerte per fare parlamentare e l'europarlamentare dove mi veniva detto da un massone diciannovesimo grado di Palermo un certo Claudio Fogazza proprio perché io non faccio mai il nome e il cognome fai bene fai bene dopo che mi erano arrivate diverse offerte da Astri e mi dice sai noi abbiamo solo il nostro gruppo 70 parlamentari dove questi devono semplicemente portare quello che noi gli diciamo di firmare quindi le leggi decreti questo e quell'altro i parlamentari che abbiamo e abbiamo avuto sempre sono talmente ignoranti che non ne sanno neanche le leggi che firmano perché ognuno di loro è affiancato da acce avvocate e sono gli avvocati a servizio del sistema che indicano a queste burattine quello che devono fermare o non fermare quello che devono dire davanti alla televisione alle interviste perché è tutto un teagino sono tutti attori e meno più ignoranti sono meglio è perché ignorando certi argomenti non sanno neanche quello che dicono e che fanno quei soldi che guadagnano non le avrebbero mai guadagnate con la propria cultura la propria professione e quant'altro quindi per loro gli va tutto bene così e questo massone di Palermo mi diceva tu a differenza di altre e tu sei imprevedibile tu non lo puoi fare il parlamentare o l'euro parlamentare per il ribelle come te dice ci sono dei posti alla regione dove c'è una scrivania c'è una bella vista Parco d'Orleanze dove merita le tue denunce e le denunce non si fanno in procura ma si fanno politiche e allora mettiamo un peso e quel peso viene come si dice tramutato commisurato in base al peso lo stipendio ovvero cifre che vanno da 6.000 a 60.000 euro al mese perché queste hanno il potere di comprarti con i soldi dello Stato quindi possono comprarsi chi vogliono come vogliono con i soldi dei cittadini perché quando se io accettavo quell'offerta e non portavo avanti più le mie guerre e le guerre di tutti coloro che sono rivolte a noi per denunciare vari sistemi criminali e loro mi compravano con i soldi dello Stato perché mi offrivano un posto statale pagato dai cittadini questa è la loro tra virgolette forza non hanno bisogno loro di mettere le mani in tasca per corrompere o comprarsi chi che sia perché loro hanno il potere di comprarsi chi vogliono dandogli degli incarichi da parte dello Stato non a caso da quando è iniziata la privatizzazione di tutto a parte e quant'altro tutti i soldi che si sono mangiati sono tutti i soldi dello Stato cioè hanno svenduto l'Italia se la sono comprata per niente l'hanno svenduta ovunque e a tutte e tutte utilizzando che cosa? i soldi di tutte e siccome ognuno di noi pensa solo alla propria tasca e non alla propria nazione alle aziende che erano prima statali e ora sono diventate estere e purtroppo ognuno di noi è stato là a guardare tanto non mi interessa tanto non è cosa mia e tanto fanno quello che vogliono tanto io non sono nessuno tanto questo e loro hanno utilizzato questa paura questa indifferenza di tutti i cittadini per poter fare tutto quello che vogliono quando arriva un Francesco Carbone che gli dice e voi queste cose non le potete fare perché è reato e non solo da solo mi metto con le spalle al muro ma tutti insieme mi facciamo un culo così vi mandiamo in galera questi vanno nel panico e non a caso quando siamo noi a fare le manifestazioni per far emergere a carattere nazionale tutte le porcate che hanno fatto con gli apparti con il colpo di giudiziario con il sistema del modello 45 con la protezione di pedofili per quanto riguarda gli affidi e i progetti legale tale le truffe allo Stato e quant'altro tutti se ne vanno in panico e la prima cosa che fanno è attaccarci attraverso i loro mercenari della Dicos per non farci fare neanche la manifestazione cosa che bene faccio è permesso a chi che sia ma infatti io a volte mi viene il sospetto perché io vedo certi personaggi che hanno detto mezza parola e li hanno cacciati dall'albo li hanno in qualche modo minacciati poi ci sono altre persone invece che possono dire il giorno 18 di luglio mentre c'erano cittadini sequestrate all'area di servizio Settebagne io mi trovavo alla caserma dei carabinieri di piazza Venezia mentre eravamo là io e l'avvocato Virginia Cirullo per denunciare la simulazione del reato da parte della polizia della Dicos il sequestro di cittadini inerme all'interno dell'area di servizio Settebagne in quel momento mentre ero in caserma abbiamo telefonato alla Cunial alla Giannone al capo di gabinetto del ministro dell'interno che erano tutti a conoscenza di quella denuncia e di quello che stava accadendo all'area di servizio Settebagne a grande raccordo denorale non è intervenuto nessuno nessuno e tutti questi giarlatane avvocaticchi giudici dottore e quant'altro che ora si sono diventati i paladini del del popolo la testatura sanitaria giarlatane nessuno nessuno ha avuto la faccia tosta di dire c'era lasciamo perdere Francesco Carbone che rompe coglione e ce ne dice di tutte le colore e magari posso fare antepatia ma quando l'avvocato Virginia Cerullo incinta a sesto mese subisce sequestro aggressione all'area di servizio Settebagne l'ho visto quel video sono rimasto allibito all'area di servizio fascicatiste o cittadini inermi sequestrate all'area di servizio Settebagne simulazione del reato contro i cittadini e poi mi vengono a dire anche pubblicamente hanno fallito la manifestazione come se le manifestazioni devono riuscire se uno raggiunge l'obiettivo di tenere a bata 10.000 persone o fare comizio elettorale con 10.000 persone cioè l'abuso contro i cittadini se ne sono fregati altamente nessuno ha voluto parlare di quello anzi hanno utilizzato l'attacchio della DICOS e della polizia nei nostri confronti per dire che io sono uno sproveduto perché le manifestazioni non si fanno così come se io sono un professionista delle manifestazioni o vado a manifestare come fanno quelle di Forza Nuova o i black bloc romane pagate e a servizio per anche della DICOS per andare a sabotare la manifestazione contro il sistema gente che abbiamo avuto noi nelle nostre manifestazioni beh purtroppo mi viene non so se è arrivata a Virginia e posso fare una domanda buonasera a tutti buonasera Virginia ho visto ho visto quello che avete dovuto subire ma lì lì vedi io avevo un po' di rabbia lì perché dicevo vabbè ma porca miseria ma dove stanno tutte le persone che dietro la tastiera sono bravi a dire sì sì facciamo facciamo andiamo contro questo contro quello ma lì eravate perché se invece di essere solo voi non so quanti erano c'erano lì 10.000 20.000 persone forse scusa non ho sentito giorno 18 come il 15 di agosto vedi che eravamo in centinaia non a caso solo per noi hanno mobilitato l'intero esercito della questura carabiniera e finanza di Roma io sono stato alle manifestazioni dove c'erano 3 4 5.000 non è niente ci vuole un milione 2 milioni di persone allora lì le cose cambiano perché è possibile che in Italia su 60 milioni di persone non ce n'è un milione veramente incavolato con questo sistema allora siamo tutti bravi a parlare però io ve lo fare che la loro opera negli ultimi 40 anni e poter assumere uno per ogni famiglia nella funzione pubblica attraverso raccomandazioni di politici magistrati generali colonnelli e quant'altro dove quelle famiglie sono funzionali a quella raccomandazione e hanno la possibilità di poter avere altre raccomandazioni in futuro chi si mette contro il sistema facendo parte della pubblica funzione magari quel posto avuto per raccomandazione una volta la mafia intimava con la con la minaccia di morte con la lubara bianca verde gialla oggi invece c'è un altro sistema riempire di soldi tanti soldi non gli mancano le persone cascano comunque io voglio fare una domanda a Virginia allora Virginia ti diamo del tu naturalmente perché come minimo comunque tutto per precisare quello che hai detto poc'anzi esistono due tipi di mafia esiste la mafia così ma anche esiste anche la mafia istituzionale e basta di me quella istituzionale è quella più potente secondo me perché la mafia quella quella che fanno vedere nei film secondo me ha meno potere di quella istituzionale chiamiamo le lagge di galline funzionale alla vera ecco infatti perché sono i vari livelli tutto in base a territorio e c'è quella che gestisce il territorio nel piccolo poi c'è la politica c'è la finanza è tutta mafia ma sono io le chiamo sistemi criminali che sono mafia e l'oggi e ordine 7 volevo domandare all'avvocato alla Virginia tu che sei avvocato penalista civilista come io entrambi sono civile penale nonché internazionale ecco uno che ha studiato e quindi penso l'avvocato dovrebbe essere come il medico una missione uno fa questo mestiere non perché per guadagnare soldi ma perché vuole veramente dare una sistemazione a tanti tanti sopprusi ecco tu cosa hai pensato quando ti sei vista quasi non poter agire anche via legale perché le denunce quello l'arresto io ho visto il filmato di Francesco picchiato cioè io e tu eri anche in stato interessante in quel momento cosa hai provato in quel momento io veramente mi immagino la forza che devi aver avuta tu considera che odio ascoltare quel video ma proprio l'odio terribilmente quella live è una cosa che per me ogni volta che la sento mi viene un magone allo stomaco e non riesco proprio a sentirla quello che dice è giusto io ho studiato giurisprudenza appositamente per tutelare i diritti tutelare i doveri e cercare effettivamente di dare un contributo anche alla tutela degli altri soprattutto non soltanto i miei ma anche quelli degli altri nel momento in cui purtroppo mi sono scontrata con la cosiddetta mafia istituzionale che poc'anzi ti dicevo mi sono trovata di fronte non un muro peggio un muro invalicabile come diceva Montesquieu la peggiore dittatura è quella della magistratura ed aveva ragione perché tu puoi conoscere le leggi conoscere i tuoi diritti e i doveri ma non li riesci ad applicare di fronte a questo muro è un muro che praticamente ogni cosa che tu gli vai a dire sono capaci sono capaci di stravolgere la verità sono capaci di dirti menzogne sono capaci di ecco e questa è la cosa peggiore in udienza darti schiaffi giudiziari ecco inventandosi le peggio cavolate di questo mondo semplicemente perché come dice Cantone io sono la legge perché l'ha detto il magistrato ecco ora facciamo anche un'altra citazione Bonafede dice la differenza tra colpa e dolo è perché perché lo dice il magistrato questa è una merita cazzata di quelle megagalattiche che soltanto un ignorantone lo può dire detto questo ecco che nasce così il metodo carbone il metodo carbone è quello dell'associazione governo del popolo dove queste cazzate devono essere schiaffate in faccia al popolo italiano per dimostrare quanto sia necessario che si svegli deve smettere di pensare che all'interno delle istituzioni ci siano persone che operano per loro ma sono persone che effettivamente sono degli infedeli di Stato e che operano assolutamente proprio violando tutte le leggi e il più delle volte sono anche degli ignoranti che non conoscono neanche le leggi però tu tu sai benissimo che quella dei magistrati è una casta e questa casta tra di loro non si fanno del male quindi un giudice non ha mai pagato per gli errori che ha fatto li porteremo a fare del male di loro allora i limiti sono dettati sempre ricordati dal proprio fondo schiena diciamola così allora la mia libertà inizia e finisce dove inizia quell'altrui ma nello stesso tempo anche i magistrati hanno dei limiti i magistrati possono pensare di inventarsi quello che vogliono entro quattro mura con un soggetto nei confronti della sua della vittima loro sacrificale è designata ma nel momento in cui sono messi alla berlina di fronte al popolo le cazzate non le possono più dire devono trovare un modo per rappresentare queste cazzate che sia quanto più veritiero possibile se ciò non è possibile perché appunto ecco che subentra il metodo carbone si trovano in grave difficoltà come al tribunale di Salerno fai conto Antonio che al tribunale di Salerno anche Virginia è vittima di questa mafia dei magistrati non so se conosce la vicenda della bambina di Virginia che è affedata al padre pedofilo denunciato da Virginia quindi suo ex marito che ha in mano la bambina da quattro anni la madre non può vedere la bambina con tutto ciò che non è decaduta dalla genitorialità dalla potestà genitoriale solo perché i magistrati assistenti sociali e tutte le istituzioni impediscono di vedere la bambina senza alcun motivo e finanche facendo ritorzione alla madre denunciante coprove alla mano quando sono subentrato io nella vicenda di Virginia dove lei era relegata entro quattro mura dentro il tribunale di Salerno che anche per vergogna non si fa uscire certe notizie fuori anche per tutelare diciamo l'immagine anche della bambina e di tutto il resto quando sono subentrato io che finanche mi sono messo là per arrestare il giudice in udienza allora sono entrati tutti nel panico perché sapevano di commettere il reato sapevano che potevo e avevo il potere di poterli arrestare in udienza in base all'articolo 183 e questi che cosa hanno fatto? Si sono astenute dall'udienza sapendo che era tutto di pubblico dominio sono due anni ora che le rinviano le rinviano le rinviano perché non sanno più che pesci prendere ma quello dentro prima o poi si dovranno fare e prima o poi le arresti verranno fatte e se non le fanno coloro che hanno il compito di farle le faremo noi come sempre cittadini perché la legge lo prevede e lo faremo e lo faremo perché tutto quello che facciamo noi lo facciamo dinanzi al popolo per far vedere al popolo che tutti coloro che si sentono di un terra che si sentono forti dove tutti fanno riverenza al magistrato al procuratore generale a quant'altro e quando Francesco Carbone li registra li svergogna li umilia la domanda a tutti dimostrano quanto sono codardi questo dei minori è un argomento che purtroppo mi sono occupato anch'io pensa io ho avuto ho intervistato un ex giudice di un tribunale dei minori credo sia di Bologna dove per lo schifo che ha visto che non poteva assolutamente fare nulla Morcavallo si attacca assistente sociale attacca questa attacca quello ma nel momento in cui lo mette a conoscenza io ci ho litigato con Morcavallo in un convegno a Roma nel momento in cui lo mette denanze al discorso del modello 45 e dell'abuso che i magistrati fanno del modello 45 e lui assolutamente mi è andato contro anche perché il page è magistrato cassazionista lui era magistrato e quindi non si va contro quel sistema al massimo si fanno business con quel sistema perché Morcavallo come tanti altri già virgolette ora avvocati non più magistrate e quando riescono a ottenere qualcosa da qualcuno quindi per liberare un bambino da una casa famiglia e quantascio la gente si venderebbe anche le case pur di avere un avvocato del genere e non a caso le sue parcelle sono esose e enorme come quelle dell'avvocato Tormina e come tutti i principi dei fore che tanti sono principi dei fore solo perché per ricatti ritorzione o per agevolazione particolare li fanno diventare principi dei fore e possono avere delle sentenze a loro favore come quello dell'avvocato polacco che prima di emergere come paladino contro la dittatura sanitaria pubblicizzava il suo studio legale con le sentenze che lui riusciva ad avere da parte del tribunale di Roma ovvero far assolvere un imprenditore romano arrestato dalla polizia con 268 dose di cocaina assolto dal giudice perché il giudice dice che quell'imprenditore era talmente impegnato con le sue aziende che non aveva il tempo di andare tutti i giorni da pusher e quindi era per uso personale e si era fatta la scorta per tutto l'anno e lui che faceva pubblicizzava questa sentenza nel suo sito internet come avvocato come a dire se voi imprenditore avete problemi per gioco o quant'altro venite da me che ho il filo giusto per farvi assolvere comunque gli argomenti sono tanti questo degli assistenti sociali a me mi ha mi ha allibito perché praticamente giudici che prendono per oro colato quello che gli assistenti sociali scrivono che poi questi assistenti sociali non hanno neanche il potere di scrivere quello che scrivono è veramente da volta a stomaco se non fosse per il fatto che ci rimettono poi dei bambini e delle madri però giustamente volevo fare un'osservazione perché anche io ho molto a che fare con gli assistenti sociali proprio nel mio caso specifico il problema non sono soltanto gli assistenti sociali che non hanno neanche il potere di scrivere ciò che fanno oltretutto tante volte sorgono fino anche a consulenti tecnici aperiti a scienziati psichiatri o psicologi a volte indipendentemente dalle loro specifiche competenze e più delle volte non parlo di terza media ma quasi hanno il diplomino e chi invece non c'ha neanche quello perché è della vecchia generazione e bastava semplicemente un diploma e un'attestazione ma la realtà non è questo perché il testo unico proprio delle assistenti sociali dispone che loro debbano asservire semplicemente alle famiglie ai fini di aiutarle nel loro percorso di essere di sostegno e di aiuto non hanno alcuna competenza di valutare giudicare e quant'altro il problema però Virginia scusa il problema è che però i giudici quando gli arriva un documento redatto da un assistente sociale neanche a momenti neanche lo leggono e danno però rocolato che quello che c'è scritto lì è fatto bene il magistrato come ti ho detto prima è dio in terra solo perché l'ha detto lui è così ti pare mai possibile che possa affidarsi alla competenza o in competenza di un assistente sociale c'è un'incoerenza in questo allora diciamo che li usano come scamotaggi per fare i loro interessi Antonio ci sono delle inchieste fatte anni e anni fa Espresso Repubblica e tante altre dove tutte le case famiglia spesso e volentieri sono di proprietà di magistrati avvocati parlamentari colonnelli generali e quant'altro amanti di colonnelli di generali di parlamentari di magistrati capito? quindi il business non è degli assistenti sociali che guadagnano 200 euro al mese e il business è di coloro che sono soci e proprietari di quelle case famiglia perché ogni bambino a quelle case famiglia gli frutta da 140 a 400 euro al giorno seppure spesso e volentieri anche le marge vengono messe in case famiglia la cifra aumenta ancora di più quindi è tutto un business economico dove l'assistenza sociale sono solo diciamo l'ultimo chiodo della carrozza dove devono dire scrivere e fare per avere loro l'appoggio per poter agire con le sentenze farlocche e tutto il resto ma io visto che abbiamo toccato questo argomento vorrei rivolgermi a Virginia ma perché io ho intervistato anche delle mamme che ancora aspettano di vedere il loro figlio per vari motivi però io dico una madre e mi rivolgo a te Virginia che sei anche tu madre che subisce violenza dal proprio marito e quindi va con fiducia da questi personaggi adesso non è che voglio fare tutto e ben faccio però va da questi assistenti sociali invece di di dargli una mano la prima cosa che fanno gli tolgono il bambino perché questo è la prassi allora a questo punto una mamma che subisce violenza una donna che subisce violenza magari che viene picchiata e a sua volta picchia anche il figlio a chi si deve rivolgere perché se si rivolge i carabinieri i carabinieri a loro volta chiameranno gli assistenti sociali e da lì inizia poi un casino perché se questa donna non ha soldi oppure non ha avvocati la prima cosa che fanno è gli tolgono il bambino ma cosa deve fare una donna che non ha nessuno che la può aiutare allora come diceva prima avvocanzi Francesco è che il sistema è marcio questo non è che lo diciamo soltanto noi ma lo ha scritto anche il grevio lo ha scritto che voi non sapete chi è il grevio aspettate il grevio sarebbe praticamente elente preposto dalla cedua al fine di accertare se la legge è contro il femminicidio venga ad essere applicata anche in Italia oppure no se la cedua viene ad essere applicata e come viene ad essere garantita queste tutele in ambito giudiziario in Italia faccio presente che questa situazione è gravemente riportata anche nel si chiamano relazioni ombra di ogni anno con tutto ciò ancora non è intervenuta neanche la commissione europea al fine di procedere anche per una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia laddove da anni non è neanche riportato ti dico anche questo non è neanche riportato un indice una statistica idonea veritiera riguardo sia alle vittime di femminicidio sia alle vittime di violenza soprattutto delle donne tant'è vero che tante volte si sente parlare no ma quest'anno invece siamo migliorati non è vero nel modo più assoluto semplicemente il magistrato ogni volta che una donna che denuncia violenza in famiglia non le viene neanche registrata le querele se non la denuncia per ecco le viene rigirato tutto per calunnia perché? perché questo non deve risultare perché il sistema vuole che le donne vengano ad essere distrutte che la famiglia venga ad essere distrutta e per poterlo fare è necessario distruggere la donna o quantomeno la vittima di violenza tant'è vero che sono più garantiti e mi dispiace doverlo dire qui anche e ad alta voce sono garantiti gli stalker i violentatori i pedofili piuttosto che invece le persone normali la legge non tutela oggi l'ho detto prima poc'anzi si inventano qualsiasi cosa violano tutte le leggi non se ne fregano proprio e non abbiamo neanche tutela a livello internazionale mi dispiace doverlo dire né dall'acenno né da altri perché soltanto dopo anni soltanto ecco soltanto quando subentrano determinati avvocati allora inizia a muoversi un ingranaggio ma a distanza di 10 anni mi dispiace doverlo dire non è né giustizia né vita si chiama reato di cultura ma allora tu che consiglio puoi dare lo so che ti sto facendo una domanda un po' delicata perché magari ci sta ascoltando qualcuno che si trova in queste condizioni a me mi scrivono molte volte io sinceramente non so che consiglio ecco ritengo che l'abbia detto più di una volta Francesco la verità è che bisogna unirsi allora l'unico modo per combattere questo muro di umiltà e questa veramente ingiustizia è unirsi tutti quanti assieme significa che laddove c'è la causa di tizio bisogna andare alla causa di tizio e l'associazione governo del popolo questo fa sostiene queste battaglie e interviene laddove giustamente c'è la necessità perché c'è una grave ingiustizia da parte delle autorità cosiddette autorità nei confronti del popolo italiano il problema grave è che il popolo si deve svegliare non può pensare che il singolo riesca effettivamente a scarpire un sistema di corruzione e connivenza già ben macchinato e che si autoalimenta giorno per giorno che già esiste ed è oramai incancrenito bisogna che il popolo che siamo la maggioranza si unisca al fine di far di ottenere finalmente giustizia e di cacciare quelli che effettivamente non svolgono la loro funzione con dignità e onore diciamo così Antonio fai conto che a novembre siamo andati a fare un sit-in sotto la casa del pedofilo abbiamo chiamato le autorità per sapere come stesse la bambina e dove era la bambina abbiamo fatto una marea di denunce e le autorità si sono finanche rivoltate contro parliamo di carabinieri magistrati dove le nostre denunce con l'apertura del codice rosso sono state affidate agli stessi magistrati che noi avevamo già denunciato per aver sabotato le precedenti denunce e quelli contenti di prendere in mano eravamo 15-20 persone ma se sotto quella casa di quel pedofilo invece di 15-20 persone eravamo 500 se invece di essere da sole c'era qualche giornalista sei tranquillo che quella bambina ovvero la figlia di Virginia ritornava a casa e pedofilo se ne andava in galera insieme con i suoi protettori questa cosa è uguale per tutti quei bambini sequestrati nelle case famiglia che se domani mi dicono andiamo tutti insieme in una casa famiglia ad andare a rivoltarla da testa a piede sia per quanto riguarda gli apparti sia per quanto riguarda le condizioni dei bambini e quant'altro io sono il primo ad andare là per rivoltare quella casa famiglia da cima a fondo ma forse è proprio questo mi fa venire in mente Francesco è proprio questo allora siamo tutti bravi nel condannare tante famiglie invece che fanno si rivolgono a quelle associazioni di categoria che si basano per la lotta ai bambini perché fanno vedere che su mille bambini ogni tanto ne salvano uno e allora loro pensano sempre con la speranza questa è la violenza psicologica che viene fatta come dicevi anche io sono stato fregato da 5 stelle ma tante e tante si fanno fregare da chi che sia perché quando vedono che c'è mille famiglie che hanno subito il rapimento dei propri bambini e uno viene salvato comincia a esserci la rivalità uno con altro dove ognuno pensa che il prossimo bambino deve essere loro quindi diventano tutte delle singole persone che si affidano a delle associazioni enormi associazioni gestite dalla politica associazioni finanziate dalla politica associazioni dove hanno avvocati assistenti sociali di tutto solo per spillare soldi a quelle famiglie che hanno subito il sequestro dei bambini dove vediamo tante e tante e tante famiglie che vanno a pagare consulenti tecnici avvocati dove gli avvocati gli dicono no non vi permettete assolutamente di denunciare l'assistenza sociale il giudice e quell'altro o se no i figli non li vedrete più a vita allora si mettono paura e che fanno e vanno per via legale le cause durano 10 anni nel frattempo i bambini diventano maggiorenne nel frattempo hanno perso tutto nel frattempo magari l'hanno dato in affidamento ad altre famiglie e stanno sempre nella speranza quello che dico sempre io io non do speranza a nessuno anzi gli dico a tutti toglietevi questa speranza da addosso che qualcuno vi può salvare qua se non giuniamo tutti insieme e non ci autosalviamo noi non ci salva nessuno neanche io posso salvare chi che sia sono d'accordissimo su quello che dici ma mi viene in mente scusa Francia mi viene in mente anche una cosa che quando non ti capita personalmente in qualcosa probabilmente non sei in grado di percepire lo schifo che c'è in giro perché sarebbe più logico quando succede qualcosa a qualcuno di non lasciarlo solo perché spesso queste mamme questi genitori sono lasciati soli e poi vanno a finire appunto l'hai detto tu nelle branche nelle unghie di queste associazioni che non aspettano altro non ti credono non ti credono perché stanno sempre nella speranza certo e loro preferiscono stare nella speranza piuttosto che fare qualcosa loro e invece bisognerebbe creare quello che tu hai fatto un'associazione un'associazione dove appena si sente che c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto si va lì in centinaia e quella persona innanzitutto non è sola è aiutata da tante persone e penso che sia così si deve andare in centinaia anche con criterio perché sia le manifestazioni o queste operazioni se non sono fatte con criterio si rivoltano congio come è successo più volte quando alcuni si uniscono tra loro per fare un'azione e poi si ritrovano senza alcuna copertura pensando che magari le istituzioni solo perché hanno fatto quella manifestazione quant'altro agiscono di conseguenza o tante fai conto che vittime pensano più ad avere un articolo giornalistico piuttosto che giustizia cioè la cosa principale che ti chiedono è ma conosci qualche giornalista per farmi un articolo o mi puoi pubblicare un articolo per quanto riguarda la mia storia che è la più importante di tutte che come dicevo prima spesso e volentieri anche le vittime fanno a gara già di loro a chi sono più vittime degli altri perché il fatto di essere magari più famose nel web rispetto ad altri si sentono più importanti o secondo loro solo per essere famosi gli liberano la bambina e il bambino chi che sia è triste è triste questa cosa è mai ad unirsi con gli altri certo ognuno cerca egoisticamente di trovare il metodo per nessuna parte e se ci affida a persone che l'unico scopo loro è mantenerti nella speranza e farti perdere tempo è sempre là fanno parte del sistema è un sistema dove il Dio denaro è al centro di tutto allora Francesco questi sono argomenti che ci sarebbe da parlare per ore io volevo anche toccare un argomento un po' più recente magari anche con Virginia riguarda allo schifo che sta avvenendo anche con i vaccini con questa Virginia da più di 10 anni fa cause per danni da vaccino ecco a proposito danni da vaccino io non so se lo conoscete voi ma non vorrei che anche questo l'avvocato oddio mi sfugge adesso il nome vabbè che si occupa da anni con l'associazione Auret mi sembra Auret dovrebbe essere e praticamente non ha mai vinto una causa perché purtroppo nonostante esiste la legge per danni da vaccino lo Stato guarda caso non riesce sempre a trovare la giusta come si dice escamotage allora fermo un attimo non è proprio così perché io ho vinte le cause e io ne ho vinte diverse tante di cause di danno da vaccino se è per questo perché a detta sua si vincono dipende dal magistrato sempre ma si vincono in virtù della documentazione medico legale che tu vai giustamente a depositare degli atti giudiziari che tu vai a redigere e quant'altro sì che le ho vinte le cause di danno da vaccino ho vinto anche infatti c'è stato persino un medico legale che mi ha fatto la contestazione alla farmacosorveglianza così si chiama l'ente preposto in Italia per accertare la reazione avversa ai vaccini e quindi conseguentemente andare ad indicizzare statisticamente quanti sono i danni i bambini danneggiati da vaccino o le persone grandi danneggiate da vaccino in correlazione col vaccino stesso queste segnalazioni alla farmacosorveglianza non vengono mai fatte tant'è vero che la farmacosorveglianza è rimasta ancora a tanti anni fa senza avere neanche aggiornato gli indici le indicizzazioni questi dati statistici quando il mio medico il consulente tecnico d'ufficio è andato quindi il medico nominato dal magistrato chiedo scusa mi va a fare perché il mio medico il consulente tecnico di parte per quante cose possa dire non vengono mai considerate e valutate questo glielo dico è mai al 100% salvo che non trovi un magistrato idoneo aperto di mente che non sia corrotto ecco mentre in questo caso io avevo proprio il CTU che una persona squisitissima mi è andata fin anche lui a chiedere alla farmacosorveglianza le indicazioni delle reazioni avverse a un determinato lotto di vaccino ebbene la farmacosorveglianza non ha neanche saputo rispondere ha detto direttamente no dovete chiedere al ministero ma stiamo scherzando il ministero e parte non può assolutamente infatti il CTU questa volta alzo le mani molto competente non ha subito negato ogni considerazione di confronto del ministero perché la parte non poteva essere neanche non gli si poteva neanche fare nessuna richiesta ok nel momento in cui però noi agiamo per danno da vaccino ci sono delle procedure che sono non farraginose peggio la 210 del 92 è una legge che prevede proprio dispone non il risarcimento del danno come dovrebbe essere mi dispiace doverlo dire ma in questo caso un'indennità per danno da vaccino questa indennità può essere richiesta al massimo entro tre anni dall'accertamento della patologia e del nesso di causa anche in questo il ministero ti rompe le scatole e si inventa che i tre anni sono da quando effettivamente è nato il bambino da quando più che altro ha fatto la vaccinazione ma se nessuno te l'ha certificato e te l'ha detto tu come ne puoi mai sapere la legge dice anche guarda che il danno da vaccino me lo deve io lo devo contestare ma me lo deve dimostrare che non è danno da vaccino il ministero in questo caso e quindi la mia controparte ebbene anche in questo i magistrati si inventano la qualunque perché non applicano mai questa considerazione perché se io dico il bambino è nato sano porto la documentazione è nato sano ed ha avuto un normale sviluppo fino alla somministrazione di quell'otto di vaccino poi successivamente ha presentato determinati tipi di stereotipie particolari e altri tipi di patologie ho avuto una reazione allergica in virtù della quale una febbre altissima in virtù della quale poi successivamente ha avuto una regressione di tutte le tappe comportamentali sino ad allora acquisite e poi dopo la comparsa di altre patologie ecco ebbene in questo caso non mi trovano mai la correlazione il CTU si inventa non c'è l'accertamento del nesso di causa perché così lo dice lui o perché non ha trovato una documentazione questa è stata bellissima quando uno mi scrive non ho trovato la documentazione che attesta il nesso di causa davvero ma nonna mia quindi praticamente il CTU che fa legge le carte e acquisisce ma siamo arrivati proprio all'assurdo la documentazione sta negli atti sulla reazione avversa e gli esami ematochimici ma non perché te l'ha detto qualcun altro prima e tu lo vai a certificare se non lo trovi non è così non so se sono stata chiara è come dire è morto uno non si sa perché perché quello di prima che ha certificato la morte non ha scritto niente no volevo solo rettificare una cosa che ho detto sbagliata prima perché non vorrei poi che come anche un amico mi riferivo all'avvocato non è che non ha mai vinto una causa io ho detto praticamente è difficile vincerle perché come tu hai appena detto c'è da veramente da fare un sacco di giri e contro giri perché in qualche modo cercano sempre di non ovviamente di non passare avanti questa cosa che poi è assurdo perché cozza un po' con l'obbligo con l'obbligo di dover fare questi vaccini per questi bambini piccoli e lì c'è veramente una qualcosa che non funziona cioè tu mi fai c'è la legge per danni del vaccino però poi mi obblighi a fare il vaccino riguardo poi alla sì in una causa Virginia si è ritrovata il suo consulente tecnico è un medico superiore della polizia di stato e come consulente tecnico scelto dal magistrato dal giudice hanno scelto un amministratore delegato di una società che si occupa di fare i vaccini la sua competenza è capito non è medico non è scienziato non è scienziato nel campo diciamo allora volevo dire praticamente la competenza per quanto riguarda la nomina del CTU normalmente viene ad essere data sull'immunologo e il virologo in questo caso oltretutto io lo richiedo sempre della specializzazione in questo caso il magistrato mi ha nominato un consulente tecnico che vengo a sapere essere medico legale ma senza la specializzazione richiesta ma soprattutto vengo a sapere in udienza che lui era competente perché era stato dirigente sanitario non mi ricordo di una società che faceva che somministrava faceva vaccini ai bambini ebbene ho fatto io giustamente c'è un conflitto di interessi no ma sto in pensione no ma che significa se lei fino ad oggi ha svolto questa funzione non è terzo imparziale in merito a questa funzione oltretutto non ha la competenza proprio specifica per no ma io ce l'ho il magistrato lui ce l'ha proprio in virtù di quello che ha fatto e che cosa ha fatto ha fatto il dirigente cioè si è fregato il fatto business ha gestito e amministrato il business per fare i vaccini cioè noi capiamo i magistrati dove sono arrivati oggi una competenza gestionale gestionale che è di ingegneria gestionale diventa competenza medico-legale specifica per l'accertamento del nesso di causa del vaccino con la patologia cioè questo è diventato scienziato in un unico momento solo perché l'ha detto il magistrato perché perché lui è dirigente faceva il dirigente dentro questa società per fare vaccinazioni quindi lui è terzo ed imparziale ha la competenza perché ha detto magistrato è come Polacco che era dirigente amministrativo dell'Agile è come se avesse competenze per cose mediche è diventato il dottore è uguale ma è incredibile comunque l'altro giorno mi hanno scritto delle persone che sono state minacciate delle infermiere che sono state minacciate perché dovevano essere obbligate a fare il vaccino ecco io so che nessun datore di lavoro può obbligare a fare il vaccino anti-covid perché non esiste obbligatorietà ecco come si deve comportare perché ci saranno tanti di questi casi se infermieri o insomma lavori a rischio si rifiutano di fare il vaccino esiste ancora ancora una tutela Virginia? Allora la tutela esiste perché i diritti sono ancora prestabiliti e previsti anche dalla nostra carta costituzionale oltre che da normative internazionali e leggi anche complementari il problema è un altro il problema è nel momento in cui le autorità cosiddette autorità mi impongono di dover somministrare questo vaccino è un'imposizione un obbligo o un invito perché la stessa cosa è come per dire anche per i vaccini obbligatori e quelli invece altamente suggeriti dove praticamente vengono ad essere altamente suggeriti però te li mettono all'interno dei vaccini obbligatori e fanno un'unica dose questa è peggio è una minaccia è una minaccia perché è messa per iscritto Antonio sempre lì siamo è messa per iscritto o te l'hanno detto soltanto i media per minacciare affinché tutti quanti si vadano a fare il vaccino dietrolegida di questo timore riverenziale per la perdita del posto di lavoro no no ma queste infermiere alla fine hanno vinto perché hanno presentato delle denunce e quindi continuano a fare le infermiere senza essere vaccinate quindi diciamo però non tutti sono abbastanza coraggiosi da mettersi contro il datore di lavoro perché sai la paura di perdere il posto e poi in questo periodo lo capisci bene e la propria ci sia maggiore garanzia e soprattutto fa sì che il popolo appunto ancora per l'ennesima volta si debba svegliare e tutelare se stesso ecco se non ha coraggio lui stesso di procedere come può pensare che qualcun altro intervenga a sua tutela questo è un argomento magari ne riparleremo perché questa storia dei vaccini veramente io non riesco a digerirla anche perché il problema è che molti io dico sempre la sindrome di Stoccolma ci sono molte persone che si sono innamorate dei loro carcerieri e quindi pure se gli dicono che bisogna buttarsi dalla torre perché per la loro sicurezza questi si buttano dalla torre quindi è una guerra contro l'ignoranza e contro veramente la stupidità umana però ci ritorneremo su questi argomenti che ne pensate sono argomenti importanti come dicevo poc'anzi pure io questa è la diseducazione di un popolo a seguito della manipolazione mentale a cui ci hanno sottoposto anche in televisione a seguito del terrorismo psicologico il fatto che ci abbiano imposto da una vita oramai a questa parte di dover soccombere sottostare al potere e chi è il potere ecco tipo le autorità allora io volevo ricordare che anche la nostra carta costituzionale non parla di potere legislativo ma di funzione legislativa di funzione giudiziaria funzione del pubblico ministero inquirente loro sono nostri come dice Francesco mi piace tantissimo sono i nostri servitori loro sono pagati da noi per assolvere la prima funzione cioè devono fare quello se non lo fanno sono responsabili questo non soltanto secondo la legge di responsabilità dei magistrati ma anche secondo le nostre norme della carta costituzionale perché lì sono le garanzie di un popolo un popolo che si è unito ecco un popolo che si è unito ed ecco appunto il patto sociale che si è unito proprio sotto legge di queste regole dettate anzitutto dalla carta costituzionale al fine di costituire uno stato lo stato esiste soltanto perché lo accettiamo noi cioè questa è una cosa più importante è che uno non capisce e non ha capito e si è dimenticato negli anni purtroppo e nel tempo che i nostri antenati non sono partiti a fare la guerra perché gliel'hanno ordinato ma perché avevano l'idea di uno stato di diritto e sono partiti a fare la guerra a tutela della nostra patria la patria dove non è delle autorità perché non penso che un genitore si sarebbe alzato avrebbe indossato l'armatura e sarebbe andato lì a fare la guerra perché perché imposto dal duce no no addirittura c'erano ragazzi che facevano si falsificavano i documenti pur di andare in guerra cioè perché c'era un senso del voler partecipare a qualcosa che potesse migliorare le sorti della nazione tutela della nazione ora invece ci sono tanti avvocati giudici quant'altro che gli dicano ai cittadini voi siete calmi e tranquilli ci siamo noi a tutela vostra noi facciamo questo noi facciamo quello e siccome noi abbiamo fiducia nella giustizia noi presentiamo le denunce facciamo le cause se poi le denunce le sabotano se poi le cause le perdono e quant'altro è solo sfortuna ci faremo al sciove e nel frattempo questi cittadini perdono tempo sperando che giudici avvocati medici e quant'altro risolvano la situazione ma non hanno alcuna intenzione di risolvere la situazione proprio per il motivo che dicevo prima che tutti dicono espressamente ma andiamo a casa non in galera questo governo questi dittatori se parlano di dittatura sanitaria parlano di colpe i colpisti c'è previsto fin anche l'ergastolo questi non pretendono neanche un giorno di galera per questi colpisti però ci parlano di dittatura sanitaria dove ci dicono fin anche facciamo questo facciamo quello perché la giustizia è lenta ma si arriva ma a me che mi serve avere un risarcimento d'anne cosa che non avranno mai fra 10 anni se nel frattempo mi distruggono l'azienda mi distruggono la famiglia mi distruggono i figli mi uccidono a me i familiari o quant'altro a che cosa servono queste promesse di risarcimento d'anne nei confronti di e poi dicono nei confronti di Conte che sappiamo benissimo che qualsiasi pubblico ufficiale nel momento in cui vai a fare causa a quel pubblico ufficiale l'obbligato è insolito lo Stato ovvero tutti noi stessa cosa quando i cittadini che si rivolgono a Strasburgo e Strasburgo fa le sanzioni all'Italia non è il parlamentare il magistrato il giudice a pagare ma è sempre lo Stato a pagare ovvero tutti i cittadini a livello non pagano mai perché non c'è la pretesa da parte del popolo della punizione penale contro questi criminali all'interno dello Stato e questi giarlatani ripeto avvocati giudici medici e quant'altro e tante media che su internet si spacciano come informazione libera che poi alla fin fine vai a scoprire che fanno parte tutti di un unico sistema per fare campagna politica per essere tra virgolette il nuovo Movimento 5 Stelle che sappiamo benissimo che sono tutta e tutta opera del sistema per portare i cittadini alle elezioni così che il sistema stesso nel momento in cui ti vai a lamentare arriva la compagine politica che ha l'opposizione e ti dicono ah ma l'avete voluto voi questo governo attraverso il vostro voto se votavate noi a cosa era diversa e stessa cosa avviene quando quella compagine politica che era l'opposizione poi va al governo e viceversa è sempre colpa del popolo che ha dato il consenso a quella componente politica che alla fine ha dato il consenso a che cosa? ha dato il consenso a quel sistema criminale che ti dice voi mi avete dato il consenso per operare e gestire lo Stato e voi subite tutto quello che noi diciamo e facciamo guarda concludiamo perché mi hai toccato sul vivo su una cosa che io l'avevo immaginato però ho detto vabbè potrebbe essere anche un po' di gelosia da parte mia come radio vedere il successo di alcuni personaggi usciti fuori durante il covid che hanno cominciato a fare le stesse interviste che facevo io a Montanari piuttosto che a quella e a quell'altro e hanno avuto un successo enorme però a un certo punto si sono unite questi vari compaggi non faccio nome niente e praticamente per ascoltarli bisogna pagare allora ho detto ma come scusa la libera informazione cioè io che ascolta Radio 1111 l'ascolto a gratis non ci sarà mai abbonamento ora che conosco io da dieci anni che non ha mai voluto parlare a parte dei posti italiani non ha mai voluto parlare di lotta contro i magistrati del modello 45 mi ha dato spazio due minuti e ha messo la mia intervista tra l'altro a pagamento solo per paura di perdere gli abbonamenti di tutti coloro che mi seguivano a me e questo dovrebbe far ragionare e capire le persone che di non farsi influenzare faceva parte della compagine politica dei 5 Stelle ultra pagato dai 5 Stelle poi se ne è uscito fuori e ora fa parte di quella compagine politica di Vox Italia di Forza Nuova di Giorgianni di Reset di Cunial e tutti quei personaggi che si stanno convogliando in un'unica tra virgolette nuova forza politica sempre gestita da quei sistemi criminale di massonerie sia di chiesa e sia di arcio no l'unica cosa che si crei a me quello che mi dà fastidio è che l'informazione libera venga pilotata questa è una cosa terribile perché è libera la spacciano come informazione libera certo io posso dire che la mia è informazione libera perché io non sono pagato da nessuno la mia radio va avanti però purtroppo non avete la visibilità ma conto che anche loro non è che guadagnano solo per quanto riguarda i servizi a pagamento perché ricevono altri finanziamenti sotto banco magari da questi sistemi per parlare solo di una cosa piuttosto che un'altra almeno mi hanno mai fatto un'intervista contro magistrate perché contro magistrate non si può parlare e non si può parlare contro contro la mafia ci sono alcuni argomenti tabù va bene informazione a 180 gradi informazione pilotata no io vorrei fare tanto l'ora è tarda più che informazione a 360 gradi questi fanno informazione a 90 gradi perché chi ha fatto il militare sa cosa vuol dire Antonio giusto io volevo richiamare giustamente tante altre cose tra cui l'ultima soltanto anche una sentenza di Strasburgo dove praticamente cita e denuncia che da noi giornalisti non sono appunto liberi e quindi conseguentemente non essendo liberi noi parliamo di una disinformazione o di un'informazione pilotata come abbiamo detto beh da quando si parla e si parla così tanto di detta l'informazione il giornalisti migliore e quant'altro ha iniziato purtroppo ad essere pilotato integralmente il vostro settore molti giornalisti che io conosco purtroppo si sono dovuti persino cancellare dall'albo onde evitare ritorsioni da parte fin anche dell'albo e conseguentemente noi cittadini utenti ci troviamo in una grande difficoltà perché non abbiamo assolutamente un canale di informazione che sia idonio e tuteli il nostro diritto all'informazione quindi la disinformazione soprattutto quella dettata dalla televisione non fa altro che creare persone che vengono amorfe che vengono a seguire un unico pensiero che è quello loro dettato da loro dall'alto ed è una cosa non grave gravissima non solo tu sai benissimo che molte tv molte anche diciamo locali radio locali hanno ricevuto parecchi soldini per mandare avanti diciamo le notizie a favore del covid cioè ma parecchi soldini pure perché dovevano fare diciamo il tutte le volte dare i numeri che gli danno da fare e io sono rimasto allibito perché alcune radio che io ascolto che ne so 105 piuttosto che e tutti i giorni fanno le break news dove danno i numeri che li sentiamo anche al telegiornale e questi pur di ricevere questi soldi lo fanno con quali soldi li hanno pagati sempre con i soldi dello Stato torniamo sempre lì cioè si fanno i grandi ci sarebbe da dire una cosa è troppo volgare comunque con i soldi degli altri cioè con i soldi nostri ma il problema è sempre del popolo il popolo che non capisce che i soldi dello Stato sono soldi di ognuno di noi pensano solo ai soldi che hanno in tasca loro comunque per concludere ragazzi qui se vogliamo riuscire a ottenere qualcosa e riunirsi io vedo qui nella chat che Antonio io ho lanciato l'altro giorno il discorso di creare le sedi dell'associazione in tutta Italia e ora inizieremo a creare sedi per ogni quartiere paese e città d'Italia dove vogliamo creare la rete più grande in Italia di persone informate e coese tra di loro è l'associazione governo del popolo quindi cosa deve fare una persona per iscriversi alla vostra associazione intanto venire nel vostro sito penso che avete un sito perfetto noi abbiamo sito forum canale telegram social quindi facebook instagram twitter in tutti i canali ci trovano tra cui nel sito c'è proprio la sezione iscriviti dove c'è lo statuto dell'associazione che si può scaricare e la pre-iscrizione all'associazione sia come socio operativo come socio sostenitore e promotore dove i cittadini che faranno le pre-iscrizioni noi nel momento in cui raggiungiamo un minimo di 30 persone per provincia città paese o quartiere ci spostiamo per andare a creare la sede dell'associazione dove quei cittadini in pratica all'inizio l'unica cosa che dovranno fare è informarsi e studiare ovvero conoscere la costituzione conoscere i propri diritti ma principalmente quali sono i doveri dei pubblici ufficiali ovvero dei nostri servitori così da non farsi più mettere i piedi in testa da parte di nessuno questa è una bella è una bella idea sai perché torniamo un po' indietro nel tempo cioè ci vuole un posto fisico dove la gente si può incontrare dove magari trova qualcuno che gli può dare una notizia una cosa sempre via internet via mail trovare proprio una persona fisica che dice io ho questo problema ok ci riuniamo e vediamo cosa possiamo fare magari non ce la possiamo fare da soli chiediamo aiuto a qualcun altro è così no? e c'è un direttivo studio legale e stiamo facendo ora faremo anche appello questa settimana perché faremo una diretta al giorno per ogni categoria dove già si sono affiancati a noi diversi avvocati che non fanno parte del sistema e che hanno sposato l'ideologia del governo del popolo che si metteranno loro a disposizione anche per fare consulenza gratuita ai cittadini fare delle ore di lezione gratuita che ne so una volta a settimana una volta ogni 15 giorni ai cittadini per informarle dei propri diritti quali sono i doveri del pubblico ufficiale e qualsiasi problematica andarle a risolvere tutti insieme il nostro motto è tutti per uno uno per tutti dove quell'uno è ognuno di voi si paga per entrare in questa associazione quanto si paga? non si paga c'è la quota annuale per quanto riguarda i soggi operativi che sono 100 euro l'anno di cui usufruiscono anche di tutti i servizi dell'associazione ti faccio un esempio mettiamo caso che tu hai una problematica legale quindi una causa civile amministrativa penale dove tu pensi di aver subito dei reati da parte di giudici avvocati consulenti tecnici o quant'altro e noi il servizio che offriamo noi a titolo gratuito è il controllo di quelle procedure e nell'eventualità nel controllo di quelle procedure che normalmente gli avvocati prendono una marea di soldi solo per controllarti le carte noi andiamo a valutare se ci sono reati commessi da pubblici ufficiali e che hanno fatto frodo processuale per falsificare la sentenza o quant'altro e noi insieme alla persona offesa ovvero al nostro socio andiamo a denunciare tutti quegli illeciti commessi in quella procedura penale dove io come presidente insieme alla persona offesa firmiamo la denuncia io e la persona offesa ed è tutto compreso nella quota associativa questo è il servizio che vediamo ai cittadini a protezione a tutela dei cittadini poi ci sono i soci promotore o sostenitore che partecipano alle attività dell'associazione non hanno dei ruoli ben definiti all'interno dell'associazione ma possono partecipare a tutte le attività che fa l'associazione possono proporre idee e quant'altro e loro non hanno bisogno di versare la quota associativa ma una quota simbolica che può essere anche d'un gentesimo o la propria attività o donazioni in natura o quant'altro non c'è una quota a parte che 100 euro l'anno per essere tutelati in questo modo sono meno di 10 euro al mese è un avvocato solo per come hai detto tu solo per andare a guardare le carte non ti chiede 10 euro al mese neanche 100 l'anno molto di più quindi diciamo che non è una cifra essosa non c'è nessun avvocato che firma la denuncia con il cliente quindi è molto interessante io guarda io come radio non abbiamo gli ascolti di milioni di persone però parecchie migliaia sì quindi siamo anche noi abbiamo il nostro seguito quindi io metto a disposizione come sempre per queste informazioni radio 1111 quando vuoi essendo noi un APS e noi facciamo i protocolli d'intesa anche con altre associazioni cooperative dove noi andiamo a mettere la nostra professionalità a disposizione anche di quelle associazioni magari che non hanno studi legali e quant'altro e che vogliono denunciare parlo di associazioni di qualsiasi tipologia sia che si occupano di ecologia qualsiasi cosa che vogliono denunciare delle leggi che non sanno come fare e noi siamo a loro disposizione per fare protocolli d'intesa per fare convegni io ho anche un'altra associazione oltre a radio 1111 che si chiama salviamo il pianeta che ci occupiamo appunto della salvaguardia dell'ambiente protocollo d'intesa e noi siamo a vostra completa disposizione perfetto allora anch'io come radio ripeto se quando ti serve di fare alcune informazioni sai che puoi contare su di me insomma come radio 1111 io lancio l'appello attraverso questa radio appunto diamo una mano a questa associazione come questa di Francesco Carbone perché non sta chiedendo ti vorrei fare una domanda un po' scherzosa non è che poi alla fine pure tu fai un partito no è una battuta Francesco allora noi nasciamo come l'ideologia del governo del popolo e controllore dei controllori ho fatto una diretta ieri dove ho fatto un appello a tutti coloro che hanno formato tutte quelle piccole partitine che magari vogliono portarsi come sindaci assessori o partecipare alla elezione quindi essere agganciati da altri dove gli ho detto se volete fare veramente politica pura e volete dimostrare agli altri cittadini che volete fare veramente politica associatevi all'associazione del popolo facciamo i protocolli d'intesa dove voi dimostrate di non avere alcuna paura di essere controllati dai controllori ovvero dall'associazione del popolo e nel momento in cui voi andate a dimostrare nel vostro territorio e alla collettività che pur non facendo politica pozzonara riuscite a risolvere i problemi che dovrebbero risolvere i carabinieri il sindaco l'assessore l'agile o quant'altro riuscite a farlo voi nel vostro piccolo e domani se volete fare politica avete già dimostrato non dovete promettere al popolo che quando sarete sindaco assessore o quant'altro potete fare quello perché già l'avete fatto quindi quando andate a dimostrare al popolo che volontariamente avete risolto i problemi per i cittadini per i singoli per la collettività per l'agile dello stato e chi ve lo nega il voto domani noi nasciamo come controllore dei congiollori e questo faremo ti ho fatto questa domanda perché durante una trasmissione con Sara Cugnall gli ho fatto la stessa domanda ho detto senti Sara ma non è che pure tu alla fine farai un nuovo partito e lei mi ha detto assolutamente no perché ha detto chiunque ha fatto questo discorso che è praticamente quello a cui credo e che tu stai facendo anche tu nel senso che lei ha detto può andare al governo chiunque ma se il popolo si unisce per fare una lotta vince non c'è bisogno di andare al governo io vorrei capire la Cugnall che ha le lotte c'è facendo con la Cugnall adesso non sto dando ragione alla Cugnall però il discorso che ha fatto però funziona nel senso che non c'è bisogno di fare un partito poi adesso se lei l'ha fatto un giorno la chiama a parte che ci sentiamo ogni tanto mi mando messaggio però io dico ma scusa ma tu hai detto che non avresti fatto un partito e adesso sei un'altra volta in Lizza per fare un partito cioè perdono la faccia comunque quello che volevo dire non era questo era che il concetto è quello tuo nel senso non c'è bisogno di fare un partito per andare a governare l'importante è che il popolo sappia come i governanti si devono muovere e ci devono tutelare e quello poi può andare chiunque al governo ma andassero pure a quel paese al governo il popolo è cosciente e in massa se ne pretende la punizione esatto poi c'è di destra sinistra ah no non ce ne frega niente l'importante è che però chi sta al governo faccia gli interessi del popolo e il popolo si deve riunire prima fare pulizia una volta fatta pulizia all'interno delle istituzioni noi denominativi denunciati ne abbiamo a migliaia tu fai conto che nel momento in cui inizia il domino delle denunce presentate dall'associazione governo del popolo ci vorranno delle nuove strutture per ospitare detenute pure lì pure nelle cacce sarebbe da fare tutta una discussione comunque io vi ringrazio ragazzi veramente è stata una bella serata io mi domandavo ma cosa gli domanderò adesso a Francesco vedi alla fine come sempre le domande escono e ne escono pure tante gli argomenti sono stati molto interessanti e più in là sicuramente se voi volete ci risentiamo possiamo approfondire anche i singoli casi o le singole cose per noi non c'è problema benissimo mi piacerebbe sì perché anche il fatto dei minori ce n'è di cose quindi io faccio do l'appello anche a Virginia sempre diciamo nelle possibilità di di mamma che tu sei se ci puoi dare diciamo ogni tanto venire qui in radio a darci dei consigli e anche a raccontare magari qualche bella vittoria del popolo le vittorie sono le vittorie del popolo detto bene infatti perché non è il singolo il problema è quando non ci sono le vittorie i casi sono similari che lì è una sconfitta anche del popolo al fare oserei dire beh bisogna ritornare a riprenderci quello che ci hanno tolto e cioè non tanto il governo che credo che a noi del governo non ce ne frega niente però riprenderci la libertà perché soprattutto quello che secondo me ci hanno tolto la libertà di pensare di avere il diritto di poter essere genitori perché ci hanno tolto la generazione non siamo più padroni dei nostri figli ci hanno tolto tutto i nostri diritti non la libertà esatto i nostri diritti è pretendere il dovere di chi è pagato per servire il popolo benissimo con questo concludiamo salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato che sono tanti e ci diamo appuntamento magari più in là per aggiornamenti e per intanto andate ad associarvi perché più siamo meglio è e se ci sono persone come Francesco e come Virginia che veramente cercano di fare il massimo rischiando ogni giorno sulla loro pelle e beh diamogli manforte perché l'unione fa la forza ragazzi è sempre stato così allora il potere oscuro usa il dividi ed impera e noi usiamo l'unione fa la forza buonanotte a tutti buonanotte buonanotte grazie mettiamo una sigla finale e siamo a posto un'una a posto attra ma